Cari amici, oggi si festeggia il 25 aprile, la festa della liberazione, una festa che è stata a lungo, una festa di propaganda per il Partito Comunista Italiano che aveva tutto l'interesse a far credere che l'Italia fosse stata liberata dai partigiani, in particolare quelli rossi, e non dagli alleati, come invece è accaduto realmente. Ma non è di questo che vi voglio parlare, voglio invece parlare di ciò che ha detto il Presidente della Repubblica, Mattarella, in occasione appunto dei festeggiamenti. Mattarella ha detto che non si può riscrivere la storia, qui il rimando ovvio è al revisionismo, ma qualche storico, ad esempio Marco Gervasoni su Twitter, ha fatto subito notare che riscrivere la storia, qualora si trovino nuovi documenti, è esattamente il compito dello storico, e quindi chiedere di non riscrivere la storia sarebbe come chiedere a un critico d'arte di non guardare i quadri o a un critico letterario di smetterla di leggere. L'affermazione di Mattarella è enorme, a mio avviso, e lascia appunto credere che su certe cose esista una sola verità di parte, che però ha il benestare e l'imprimatur del Presidente della Repubblica.